E' un lavoro, ad esempio, che è partito da un lavoro delle stazioni dei carabinieri, nel raccogliere gli elementi, le prove che poi sono state sintetizzate dal comando provinciale di Vibbo, ma è anche il conforto della mitoculosità che ci è stata messa in l'indagine, la possibilità di contestare dagli indagati due omicidi di mafia, oltre che due tentativi di estorsione ad uno degli imprenditori più importanti che abbiamo in Calabria, c'è l'imprenditore Callipo. C'è stato importante per noi sondare l'attentabilità di Mantella, perché parla di una delle famiglie più importanti dell'Andrangheta sul piano internazionale. Sia per quanto riguarda il tentativo, l'intimidazione del 2004, sia per quanto riguarda l'intimidazione del 2016, le riprese che sono state fatte dei responsabili, degli esecutori materiali, unitamente ad una serie di riscontri oggettivi sull'autovettura che è stata vista allontanarsi dal luogo, da dove proveniva. Nel 2004, successivamente all'omicidio di Cracolici, ci dicono i collaboratori, ma è dimostrato oggettivamente da una serie di intimidazioni che si sono verificate, in buon modo dobbiamo prendere il possesso, dobbiamo marcare il territorio della zona di Marierato, che fino a quel momento era sotto il controllo dei Cracolici. È una risposta efficace da parte delle nostre stazioni carabinieri e delle nostre pattuglie, che nel tempo hanno saputo raccogliere gli elementi importanti che hanno potuto ricostituire e costruire il quadro indiziario. Rossella Galati per la Cineus 24